Salve a tu! Già saprete, alcuni terrapiattisti usano il film Matrix come metafora per descrivere la loro teoria del complotto. Se avete visto il film Matrix, avete presente di cosa parla, ma perché non lo ha visto glielo consiglio? Ma qualora non l'abbiate visto, cerco di riassumere il concetto centrale. In questo film l'umanità è prigioniera di una simulazione, come se fosse in coma e stesse sognato. È quella che crediamo che sia la realtà e frutto della simulazione. In breve ciò che ci viene messo davanti agli occhi, anche se sembra reale e scontato non lo è, la realtà è che siamo schiavi. Questo film è stato usato per dimostrare tutto il contrario di tutto, sono sempre gli altri prigionieri di Matrix. Siamo circondate di persone convinte di essersi liberate da Matrix e di essere in dovere di liberare gli altri. Ad esempio ci sono i vegani, quelli che credono erettiliani, anche gli atei adesso si stanno facendo notare anche i terrapiattisti. Sì. Tutte queste persone credono di essere fuori da Matrix e che gli altri siano intrappolati in un'illusione. E di avere il compito di liberarli anche se il più delle volte si limitano ad insultare. La metafora di Matrix ha senso se effettivamente tu stai attaccando ciò che ci viene messo davanti agli occhi. Per i terrapiattisti è la terra sferica che ci viene messa davanti agli occhi, riferendosi ai mass media, i libri, la scuola eccetera. Ma dimenticano una cosa fondamentale. La percezione parte dai sensi, non dai mass media i libri. Davanti ai nostri occhi c'è una terra che appare piatta, non sferica o a forma di geoide. E' la scienza che ci libera da ciò che appare e che ci danno i sensi e che ci mostra che è sbagliato. La terra appare piatta ma non lo è, il sole sembra girare intorno alla terra ma è vero o esattamente il contrario. Con i nostri occhi non vediamo gli atomi e le molecole, figuriamoci i quark, i neutrini e via di seguito. Infatti la metafora di Matrix viene usata anche nel campo della fisica teorica, dove la realtà non è come appare. Come se dentro Matrix fosse fatta di oggetti come tavoli, sedie, cellulari, alberi, ma fuori da Matrix fosse fatta di atomi e particelle subatomiche. E' questo l'errore di prospettiva dei terrapiattisti. Secondo loro ciò che appare ai nostri sensi sarebbe fuori da Matrix e invece ciò che è controintuitivo e va contro i nostri sensi. Come la terra sferica, le particelle subatomiche, la relatività, farebbe parte della Matrix. Questo è un totale controsenso. L'errore nasce perché i libri, la scuola e i media parlano di terra sferica da sempre. Io effettivamente ammetto che se a scuola ci avessero insegnato che la terra è a forma di melanzana, noi crederemo per davvero che la terra è a forma di melanzana. Però la storia della scienza è la storia di persone che hanno progressivamente messo in discussione ciò che appare per cercare di avvicinarsi progressivamente a ciò che è vero. Quindi Pitagore Parmenide affermando per primi che la terra è sferica. E poi Aristotele che ha provato da raccomentare il perché la terra è sferica e poi Eratostene calcolando approssimativamente il raggio e circonferenza della terra. Hanno fatto un primo passo per uscire da Matrix perché ai loro occhi così come ai nostri la terra appare piatta ma sono arrivati alla conclusione che essa sia sferica. Allo stesso modo Copernico e Galileo hanno fatto un ulteriore passo verso la verità anche se nessun passo è quello definitivo. Dimostrando che la terra gira intorno al sole e lo stesso vale per Einstein, la fisica quantistica e via di seguito. Sui libri noi dobbiamo apprendere i progressi che loro hanno fatto e fare come i nani sulle spalle dei giganti e vedere oltre chi ci ha preceduto. Ma questo richiederebbe lunghi e approfonditi studi su come progredisce la scienza e su quale è la differenza tra chi propone una teoria rivoluzionaria. Che potrebbe rimpiazzare il paradigma attuale da chi propone una castroneria colossale come la terra piatta o la luna come ologramma. Effettivamente scambiare la scienza come fonte di certezza dogmatica non è diverso dall'essere dentro Matrix. Non bisogna mai dimenticare oppure ignorare il falsificazionismo e il cambio di paradigma. In questi termini credere nella scienza, che è falsificabile, non significa essere prigionieri dentro Matrix. Ma essere sulla via della liberazione, senza essere mai definitivamente fuori. Credo di essere stato chiaro, sono i terrapiattisti ad essere progionieri di Matrix, non chi crede nel progresso e nella falsificabilità delle teorie scientifiche. Un saluto, alla prossima.